il brama bravo scinti tata brevi il brama il brama scinti tata scinti tata il brama scinti tata o meglio il miracoletto son cingo il principe un piatto un piatto suspeitas No, non è vero. Questa è vero. Cosa? Plastica. Questa è vero, non è vero. Non lo so. Non è vero. Non lo so. Non lo so. Ok. No. Sì, non è vero, non è vero. Ora che metti a te fai, non è così, non è così, non è così, non è così, non è così. Senta. Senta o che è sa Alita? Senta. E allora , non ho dovuto hai mai. E? E, che ho detto a Alita. Allora, che la faccio ne vedeo. Oggi, come va, c'è te giù? Mentre, come si, dai. Come il raggiù e il raggiù. adesso api geò, questo è il raggiù, il raggio non è lega. Acciù. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti